Salvini a Mosca, come nasce questa idea di questo viaggio? Per quello che voi ne sapete, poi in un altro partito. Io non entro nelle scelte di un leader di un altro partito, anche se alleato, più o meno alleato, ma sinceramente è un momento molto critico e lui non ricopre un ruolo di governo, quindi speriamo che non ci sia un secondo caso Polonia, perché chi lo ha consigliato o mal consigliato di andare in Polonia ha esposto poi tutta l'Italia, oltre alle sue buone intenzioni di cui noi siamo sicuri.